Un'altra grande prestazione del Basket Club Irpinia che raggiunge quota 46 in classifica e allunga il passo in vetta. In casa i bianco-verdi di Coach Luca Giannacone hanno battuto anche il Portici con il punteggio di 80-58. Una gara iniziata con qualche difficoltà perché la formazione partenopea ha avuto la capacità e soprattutto la bravura di giocare un'ottima palla a canesso soprattutto nel primo quarto. Poi l'ingresso in campo di Paolo Cantelmo e Mimo Izzo e l'utilizzo della zona 3-2 hanno cambiato la partita favorendo i bianco-verdi che hanno iniziato a macinare il gioco. Ferrara pur non brillando è stato il solito mattatore trascinando il team bianco-verde al decimo successo consecutivo nel girone di ritorno. Una marcia trionfale per i dirpini che domani sera saranno impegnati sul campo di Santa Maria Vico in un'altra gara dal sapore dei play-off. Intanto gli avellinesi proseguono il proprio cammino e lo fa anche nel girone B il Cabo Solofra che ha perso in casa contro la Virtus Curti con il punteggio di 68-61. I conciari questa sera scenderanno in campo a Saviano nell'ultimo match prima della pausa pasquale.